Come un vestito usato. Che cosa succede al momento del trapasso quando la coscienza si distacca dal corpo fisico e si trasferisce nel corpo astrale? Commento. Ci appare un altro mondo, un altro modo di vivere. Si allarga la visione di tutto ciò che è stato e di ciò che è. Perché? Abbandonando il corpo fisico che rimane come un vestito usato si vive uno stato di libertà proporzionato al grado di evoluzione che abbiamo raggiunto. Le leggi del piano fisico non hanno più presa sulla coscienza che vive il piano astrale. I nostri morti ci riconoscono in una maniera tale che non avrebbero mai potuto nel piano fisico. I nostri morti ci riconoscono in una maniera tale